due bambini nella pace del cortile giocavano a inventare una lingua speciale per poter parlare tra loro senza far capire nulla agli altri brief braf disse il primo braf braf rispose il secondo e scoppiarono a ridere su un balcone del primo piano c'era un vecchio buon signore a leggere il giornale e affacciata alla finestra di rimpetto c'era una vecchia signora né buona né cattiva come sono sciocchi quei bambini disse la signora ma il buon signore non era d'accordo io non trovo non mi dirà che ha capito quello che hanno detto e invece ho capito tutto il primo ha detto che bella giornata il secondo ha risposto domani sarà ancora più bello la signora arricciò il naso ma state zitta perché i bambini avevano ricominciato a parlare nella loro lingua maraschi barabaschi pepirimoschi disse il primo rispose il secondo e giù di nuovo a ridere tutti e due non mi dirà che ha capito anche adesso esclamò indignata la vecchia signora e invece ho capito tutto rispose sorridendo il vecchio signore il primo ha detto come siamo contenti di essere al mondo e il secondo ha risposto il mondo è bellissimo ma è poi bello davvero insiste la vecchia signora brief bruff bruff rispose il vecchio signore grazie a tutti 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 grazie a tutti